Di un evento, di un premio, ma che dico, dei premi davvero speciali. Sì, parliamo di cinema perché è tutto pronto a Taormina per il National Awards Premio Cinematografico delle Nazioni. Domani entra nel vivo la manifestazione con il clou il 19 settembre. Noi ne parliamo con il patron della manifestazione, Michel Curatolo. Buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fantastica. Sì, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Nonostante la situazione che sta attraversando il paese e anche la situazione internazionale, quest'anno abbiamo assolutamente, fortemente deciso di dare seguito alle 14 edizioni che ci precedevano. Per cui abbiamo deciso con le autorità, con il parco archeologico di Taormina, Giardini, di Naxos, comunque di fare questa manifestazione che è una manifestazione storica istituita negli anni 70 dal professor Gianluigi Rondi, che tutti conosciamo compianto purtroppo perché è venuto a mancare qualche anno fa il creatore dei Davide Donatello, per capirci. Una manifestazione di grandissima storicità, finalizzata a tematiche sociali perché affrontiamo, come lo scorso anno, la sostenibilità ambientale che chiaramente tutti noi condividiamo, anzi, dobbiamo spingere e dobbiamo aiutare perché comunque la situazione purtroppo sia del cambio dei cambiamenti climatici, della deturpazione territoriale, sta veramente mettendo a duratova la nostra vivibilità e quella futura soprattutto. Appuntamento importante e per questo è stato ribadito l'alto patrocinio da parte della Presidenza del Parlamento europeo che quest'anno non manca di riservare grandi ospiti. Sì, infatti alcuni già sono stati comunicati, altri verranno comunicati, tra l'altro ci sono anche grandi ricorrenze, piacevoli, meno piacevoli, purtroppo la scomparsa del maestro Ennio Morigone a cui sarà dedicato un omaggio musicale, ci sarà un artista, un pianista virtuoso, l'eccellenza che è Alessandro Martire che farà una breve performance. Sarà uno spettacolo, ritengo, parlo chiaramente delle gala del 19 settembre, scusate, di grandissimo interesse. Comunque mi piace e ci piace anche con Tiziana Rocca che cura la direzione artistica, creare interesse non solo dal punto di vista culturale ma creare anche del divertimento che allieterà sicuramente i presenti al Teatro Antico alle 20.30 sabato 19. Ecco, quanto è stato difficile organizzare la manifestazione quest'anno in uno scenario quasi surreale? Sì, questo sicuramente sta dando qualche problema perché comunque abbiamo delle ristrette direttive anti-Covid che chiaramente prevederanno il distanciamento, l'uso della mascherina e tutta una serie di controlli per il tracciamento. però ribadiamo, la Sicilia c'è, non ci siamo, tutti hanno detto che ci sono gli alberghi chiusi e non è vero, assolutamente Taormina è aperta ed è viva e aspetta i turisti e comunque sta dando una prova di grande collaborazione e una prova di grande responsabilità nell'organizzare gli eventi. Il tema soprattutto dedicato all'ambiente, intanto noi ricordiamo che siamo in collegamento telefonico con Michel Curatolo, presidente di Eventau, per questo premio davvero importante e soprattutto per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Ci sarà anche un hashtag che correrà veloce anche in rete con Rialberiamo che si chiama così. Già è pronto oppure dobbiamo aspettare sabato? No, 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 assolutamente, rialberiamo ed è una grande scommessa che stiamo facendo anche perché personalmente detesto, detesto vedere la distruzione delle nostre foreste che sono veramente, dovrebbero essere considerate patrimonio dell'umanità. Purtroppo ancora ad oggi ci sono incendi dolosi che creano situazioni incredibili, impensabili alle soglie del terzo millennio. Questa è una cosa che veramente ci lascia tutti sbigottiti. Stiamo creando un fondo, una raccolta proprio per la rialberizzazione, scusatemi il termine, delle nostre foreste, soprattutto delle zone siciliane che quest'anno sono state deturpate dagli incendi nefasti. Personalmente sarei molto duro a livello penale con chi si macchia di questi crimini. Curatolo, in conclusione la manifestazione ribadisce la sua caratura internazionale con attori provenienti da diverse parti del mondo, ma soprattutto anche l'importanza del cinema italiano con importanti firme. Sì, assolutamente. Abbiamo rappresentati gli Stati Uniti, l'Ucraina, della Francia e grandi attori italiani. Diciamo che è un appuntamento che si ripropone dando spazio al grande cinema, però finalizzato, questo è importante, a tematiche sociali. È stata, soltanto per concludere, Michele Curatolo, sono stati dei mesi sicuramente difficili, quelli post-Covid e post-Covid, magari lo continuo ad essere per alcune tematiche. Voi però avete lottato ancora una volta per portare comunque il premio. È stato un percorso non facile magari questo. Sì, sì, sì. Come dicevo Pocanzi, effettivamente non è semplice, però ce l'abbiamo messa tutta. È un po' il nostro lavoro. Poi personalmente a me piacciono le sfide, dico. Quindi questa è stata una sfida. Speriamo di vincerla. Sicuramente siamo a un buon punto. Il primo tempo l'abbiamo vinto. Sfidiamo il secondo tempo e portiamo la coppa a casa. Diamo appuntamento quindi al 18-19-20, serata clou il 19 settembre, al Teatro Antico di Taormina per la nuova edizione del National Awards, premio cinematografico delle Nazioni. Grazie ancora Michele Curatolo. Buona giornata. Grazie, grazie a voi, grazie agli ascoltatori.